La scorsa notte a Lecce, un 35enne del posto intorno alle 2.45, alla vista di una volante della polizia che transitava lungo via Leotranto in prossimità dell'incrocio con via Paesiello, si è allontanato velocemente dal portone di uno stabile cercando di eludere i poliziotti. Gli agenti, che lo hanno notato, lo hanno però inseguito bloccandolo poco dopo. Durante il controllo, il fermato ha manifestato un certo nervosismo e non ha esibito alcun documento di identità. Ipotizzando che l'uomo avesse commesso qualche reato, i poliziotti hanno così effettuato un sopralluogo nelle immediate vicinanze, constatando che la porta di un esercizio commerciale di Veleotranto, vicino al quale l'individuo era stato notato, era effettivamente aperta con una vistosa forzatura della serratura. All'interno, la merce era sparsa per terra. Il fermato, tra l'altro, presentava strani rigonfiamenti del giaccone indossato e aveva con sé una busta di plastica che fuoriusciva dalla manica destra. A quel punto, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione personale, rimanendo nella busta una chiave a tis vita bulloni, un cacciavite a taglio ed un altro lungo 22 centimetri. Tutti gli oggetti erano stretti al braccio da un elastico incorporato al giaccone. Stesso stratagemma era stato escogitato dal fermato per celare nella manica sinistra dello stesso giaccone una chiave a pappagallo. Nella tasca anteriore destra è stato poi rinvenuto un coltello a scatto con una lama di circa 7 centimetri. In un'altra tasca c'erano 10 portachiavi nuovi in acciaio, raffiguranti angeli e pesci, che il fermato ha dichiarato aver comprato in un negozio cinese per 15 euro. Contattata la proprietaria del negozio, che è giunta sul posto constatando la forzatura del registratore di cassa, si è così accertato che erano stati rubati 15 euro. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per furto aggravato e possesso di arnesi da scasso.